Viale Marconi non è l'esempio virtuoso della viabilità nel centro città. Dalle corsie che sono passate da 3 a 4 alle rotatorie tagliate al centro che non sono state aperte al transito dei mezzi pubblici, la strada che avrebbe dovuto snellire e rendere smart il traffico cittadino di Pescara è sottoposta al setaccio dal PD che lo scorso 7 novembre ha presentato alla giunta Masci un'interrogazione. Ci dice sostanzialmente che i lavori sono terminati il 6 di dicembre allora noi oggi lo sfidiamo ad aprire alla viabilità via Marconi compreso le rotatorie, quelle col buco dentro. In realtà è falsa questa risposta perché non ci sono ancora gli impianti semaforici a ben 4 incroci a cominciare da via Spaventa fino ad arrivare alla mega rotatoria tra via Pepe e via Marconi. Non solo non ci sono questi semafori, non ci sono neanche le determine con cui affidano questi lavori. Allora se è vero quello che ci rispondono e qui si va anche nel falso e cioè che i lavori sono terminati, noi oggi aspettiamo l'ordinanza per aprire quelle rotatorie al passaggio dei mezzi pubblici. Anche perché stanno succedendo, lo leggete tranquillamente sui giornali, tantissimi incidenti che riguardano quelle rotatorie. L'ultimo è quello del pallo della luce sull'autobus. 852 giorni di cantiere contro i 189 previsti nel progetto di riqualificazione e ad oggi il PD, carta e penna alla mano, fa la somma anche delle risorse che mancano di ciò che è stato speso tra l'appalto principale e gli affidamenti extrappalto. E il costo dichiarato di 1.326.000 euro che già porta, con sé 356.000 euro circa in più rispetto a quanto inizialmente preventivato, non corrisponderebbe alla somma stimata dal PD. Un appalto che doveva costare 970.000 euro più IVA e che in realtà arriverà a costare oltre 1.750.000 euro, cioè il 70% in più. Un capitolo di spesa riguarderebbe gli appalti dei lavori cosiddetti propedeutici dal verde delle rotatorie al rialzo di Tombini e dopo Viale Marconi la richiesta di delucidazioni si allarga e va oltre fino a toccare interventi su Viale della Pineta, su lungomare nord e sud. Masci, come tomba, ironizza Blasioli, fa lo stesso slalom con le nostre richieste, come, d'altro canto, gli automobilisti su Viale Marconi.